Allora, titolo! Contratto! 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 Perché non è rilassato il contratto! Allora, andiamo avanti! Il guerri è presente! Graziano Lombardo delle Cotiche mette a disposizione un appartamento con due vani Due vani? Lui mette due vani, io metto due edie! Un'altra volta da Showcalibro! Guardi Passo! Ci vergogni! Guardi Passo! Travone Rosaule a parte seconda! Rosauro! Ti devo dire che tra noi due ultimamente è Infenetta! E non lo dici così senza metafora, eh? Dove mi piacciono queste prove? Ciao! Poi ci ho! l'hollare! 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 Tanta e decided la via la via la via lì! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti